Ciao, sono Irene Bonazia, insegno arte e territorio al Fermi di Ponte d'Era. Nell'ambito del progetto Erasmus Plus Team for Krill ho avuto delle esperienze di mobilità che hanno portato anche dei cambiamenti nella mia didattica. La prima mobilità è stata a Chester nel gennaio 2018, una mobilità per docenti dove ho studiato l'inglese, ma dove ho anche partecipato a delle lezioni in cui ci veniva insegnato il metodo sia nella scuola Conlan che ci ha ospitato, sia all'università di Manchester dove abbiamo condotto dei lavori di gruppo. Inoltre, in un giorno siamo stati ospiti di una scuola in job shadowing conoscendo grandi diversità fra la scuola italiana e quella inglese, alcune positive, altre meno. Inoltre, ho potuto andare anche ad ottobre di nuovamente in job shadowing, questa volta in Irlanda, ho partecipato alle lezioni osservandole e ho studiato il sistema scolastico irlandese in modo più approfondito. Inoltre, ci sono stati molti spunti per la mia materia, ad esempio a Dublino, e collaborando con colleghi stranieri e italiani ho praticato molto la lingua. La ricaduta nella mia didattica è stata soprattutto un rafforzamento. Io, insegnando al turismo, ho incrementato ulteriormente la multidisciplinarietà e ho deciso di approfondire il lavoro sui siti della lista UNESCO, che coinvolge molte discipline, appunto, e di incrementare la collaborazione nei miei studenti, il lavoro di team, il lavoro frappai, usando anche le tecnologie. Seguite il progetto sui twinning e grazie!